All for shooters, all for hunters, siamo nello stand Fiocchi con Costantino Fiocchi al quale ci diamo la parola perché ci facciamo illustrare le novità in un evento così importante come l'IWA e in occasione anche abbastanza direi molto importante e particolare per la Fiocchi stessa perché quest'anno ricorre il 140esimo. Ce ne vuoi parlare Costantino? Sì, come hai detto festeggiamo il 140esimo quest'anno e abbiamo pensato di dedicare questo evento, questi festeggiamenti alla caccia soprattutto con la canna liscia. Quindi quest'anno abbiamo fatto una nuova linea che non è proprio una nuova linea ma è un riordino delle cartucce che avevamo prima, ovviamente vendiamo tanti milioni di cartucce e non potevamo... Dormire sugli allori. Ecco, no, e soprattutto non era giusto cambiare perché i nostri clienti sono soddisfatti delle cartucce ma abbiamo pensato di dargli una nuova veste grafica e di riordinare un po' le linee produttive. E quali sono queste linee produttive che avete messo? Allora, abbiamo riordinato le cartucce in quattro linee che sono la linea Classic che comprende le vecchie PL e la linea Performance che contiene le cartucce con delle performance particolari, con delle caratteristiche particolari per cui ci troviamo dentro le traditional, troviamo dentro le discarsanti, le magnum, le semi magnum, le altre prestazioni. Poi la Wetland, la linea Wetland che contiene le cartucce per la fauna... I cacciatori di acquatici. I cacciatori di acquatici e la Excellence che è una linea di cartucce dedicata ai singoli selvatici che sono l'anitra, il fagiano, il colombaccio, il cinghiale... E avete però anche una linea particolare dedicata al cento quarantesimo. Sì, non è proprio una linea, abbiamo due cartucce che hanno una veste particolare con una confezione particolare dedicata che si chiama Anniversary proprio per festeggiare questo evento. Sono le PL34 e le PL34H. Però mi hai detto una piccola bugia perché in realtà almeno una cartuccia nuova c'è perché abbiamo una GK6 in calibro 20 che sono sicuro farà la felicità di tanti cacciatori. Sì, no, le cartucce nuove in realtà sono sei, di cui la GK6 calibro 20. Poi ci sono le Excellence che abbiamo detto prima, che sono le nuove, sono la Duck, la Pigeon e la Fezen. E poi abbiamo un'alta prestazione in 40 grammi. Insomma, abbiamo delle belle novità. Bene, non vediamo l'ora di provarle. Bene, grazie. Non c'è, grazie. Bene, grazie. Grazie.